Musica Ci troviamo in via Pampillonia, questo è un cortile, lei ha dei bambini piccoli, lamenta il fatto che questo furgone è stato abbandonato qui da quanto tempo? Da circa un anno e mezzo che è abbandonato qui Lei ha chiamato i vigili, il comune? Sì, ho chiamato i vigili e nessuna risposta Lei dice che i miei bambini giocano qui? Giocano qui e quindi si possono pure tagliare, si possono fare male i bambini Quindi nessuno è venuto a rimuoverlo da un anno? No, no, nessuno, se voi guardate le rotte sono per terra, tutti i vetri rotti Qualcuno ha pensato bene, bene, di abbandonarlo qua? Sì, sì Inoltre lei mi diceva che in questa zona ci sono diversi topi pure I topi, precisamente al civico 29, ci sono in questo garage mezzo aperto, escono dei topi, pure qua al numero 33 escono dei topi e basta Ci sono case abbandonate, se qua guardate ci sono porte rotte Quindi lei chiede che venga rimosso il furgone e che in vista dell'estate venga effettuata la derattizzazione? Perfettamente E in via Suterese ci dispiace notare che la situazione con gli anni non cambia, sempre spazzatura, eterni, abbandonati Sì, sì, ci sono cartoni, se guardiamo c'è una vasca, una vasca antica, dei cartoni, bricciolino, frigoriferi rotti, amiando e tante cose E nessuno viene mai a rimuoverla? No, no, nessuno, nessuno viene Sì, 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 sì